Il circuito internazionale del Volturno a Limatola in provincia di Benevento ha infatti ospitato questa quarta tappa dopo la pausa estiva e anche la lunga sosta ha creato più attesa favorendo l'afflusso di piloti. Si è iniziato come sempre con i ragazzi del campionato mini GP organizzato da Tutti in pista Racing School. I ragazzi a Limatola hanno confermato ancora di più il loro miglioramento nella guida delle Metra Kit 50. La pole va a Gabriele Valentino seguito da appena quattro decimi da Lorenzo Imperiano. Valentino parte subito bene e va a vincere la sua gara su Imperiano seguito sul podio da Mirko Amic, Gianluca Sconza, Manuel Palumbo e Alessia Marino. Mi assoluto ti piace comunque come pista? Si si è una bella pista che ha dei bei cambi di direzione, a me mi piacciono molto i cambi di direzione. La scuola di Tutti in pista Racing School ti sta aiutando tanto no? Si si mi sta aiutando tanto, soprattutto Roberto e gli istruttori che mi danno dei consigli in pista. Poi volevo ringraziare a mio padre, al mio meccanico Gino e volevo salutare il 232 la caserma di Avellino. Grazie. 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 Grazie.